Gennaro Corzolino, nuovo giocatore della Reggio Udace, le tue prime parole dopo essere appalato in Granata? Sono felice ed onorato di aver firmato con questa società, società ambiziosa, una grande realtà e con un progetto importante, poi la storia parla da sé. Se dovessi descrivere le tue caratteristiche come giocatore ai tifosi? Sono un giocatore che ci mette grinta, dedizione, faccio della mia forza il lavoro settimanale, sono un terzino, posso fare anche il centrocampista, quindi posso aiutare la squadra anche in più ruoli. C'è un giocatore a cui ti ispiri particolarmente? Vabbè, c'è Cristiano Ronaldo che mi ispiro per la dedizione al lavoro e per il sacrificio giornaliero che ci mette. L'anno scorso era Messina, una piazza importante così come Reggio e hai già avuto modo di vedere la Serie D. Che campionato è? Cosa ti ha colpito particolarmente? La Serie D è un campionato da non sottovalutare per il semplice fatto che ogni squadra ci mette il suo, soprattutto in una piazza così grande come Reggio. Ogni squadra farà di tutto per portarsi il bottino a casa, visto che è una grande piazza, ma quest'anno sarà difficile perché i nostri obiettivi sono importanti.